La giornata di Cajarde è stata molto intensa, malgrado non si sia uscito in mare, questa mattina ha avuto il primo briefing con il team, ha verificato quelle che sono le condizioni meteo per la giornata di domani, è andato in Portovecchio a fare due passi per le parti più antiche della città, un incontro con il nostro governatore, la presidente Serracchiani e poi si è recato a bordo di Linea Blu, la trasmissione molto famosa della Rai.